Salgono a quota 3.951 i positivi al coronavirus in Campania e quanto riportato dall'unità di crisi della regione Campania nel consueto resoconto quotidiano. 64 i positivi registrati nella giornata di ieri su un totale di 2.401 tamponi effettuati sul territorio regionale. Per quel che concerne la provincia di Salerno, nuovi casi sono stati registrati ad Agropoli dove ad essere contagiata è stata una paziente oncologica, Angri, Cava dei Tirreni, Fisciano, Furore, Pagani, Pellezzano e Sala Consilina. Il governatore De Luca intanto ha comunicato di aver avviato la distribuzione alle farmacie delle prime 500.000 mascherine acquistate dalla regione Campania.